Megatruffa da circa 2 milioni di euro ai danni dell'erario. A scoprirla, dopo un'attenta indagine, la Guardia di Finanza di Pesaro, che in seguito ai controlli ha denunciato 49 persone, tra cui 4 imprenditori e diversi operai, che continuavano a lavorare in nero pur essendo cassa integrati. Il fenomeno dell'evasione contributiva è aumentato negli ultimi anni a causa della difficile situazione economico-finanziare italiana. Proprio in tale ambito si sono svolte le attività di controllo dei finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Pesaro, che hanno sottoposto a ispezioni dall'inizio dell'anno 5 aziende del settore manifatturiero. Ispezioni finalizzate, soprattutto, al controllo degli adempimenti giuslavoristi sul corretto versamento delle retribuzioni delle aziende ai propri dipendenti e delle richieste rivolte all'Inps riguardo all'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Le citate attività hanno consentito di scoprire una truffa ai danni dell'ente previdenziale assistenziale che ha condotto la denuncia dalla locale procura della Repubblica di 49 persone responsabili a vario titolo del reato del codice penale truffa aggravata, di cui 45 operai e 4 imprenditori. Il meccanismo fraudolento consisteva nel porre in cassa integrazioni i propri dipendenti, benché gli stessi prestassero comunque la propria opera all'interno dell'azienda. Inoltre, sono stati individuati 85 dipendenti, i quali percepivano i monumenti riferibili alle ore di straordinario fuori busta, nonché un lavoratore in nero. L'azione di servizio ha permesso di accertare un'evasione contributiva per oltre 600 mila euro, correlata a un'evasione fiscale per più di un milione di euro.